lo depose nella mangiatoia nel giro di poche righe la parola mangiatoia è ripetuta tre volte la qualcosa tenuto conto dello stile di luca insospettisce non poco l'evangelista allude non c'è dubbio lui il pittore vuole ritrarre nell'atteggiamento di criempe il cestino vuoto della mensa se è vero che nella mangiatoia si mette il pasto per gli animali non è difficile leggere in quella collocazione l'intendimento di presentare gesù fin dal suo primo apparire come cibo del mondo anzi come il pane del mondo sotto quindi la paglia per le bestie sopra la paglia il grano macinato e cotto per i uomini sulla mangiatoia avvolto in fasce come in candida tovaglia il pane vivo disceso dal cielo accanto alla mangiatoia come dinanzi a un tabernacolo la fornaia di quel pane maria aveva capito bene il suo ruolo fin da quando si era vista condotta dalla provvidenza a partorire lontano dal suo paese lì a betlem che vuol dire appunto casa del pane per questo nella notte del rifiuto ha usato la mangiatoia come il canestro di una mensa quasi per anticipare con quel gesto profetico l'invito che gesù nella notte del tradimento avrebbe rivolto al mondo intero prendete e mangiatene tutti questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi maria portatrice di pane dunque e non solo di quello spirituale deformeremmo la sua figura se la sottraessimo alla preoccupazione umana di chi si affatica per non lasciare vuota la mensa di casa sua si attribolato per il pane materiale e qualche volta quando non riusciva a procurarselo forse avrà pianto in segreto come quell'altra maria povera donna che abita in un sottano con una lidiata di figli e col marito disoccupato e per insolenza non le fanno più credito neppure a negozio di generi alimentari gesù deve aver letto negli occhi splendenti di sua madre il tormento del pane quando manca e l'estasi del suo roma quando caldo di cenere si sbriciola sulla tovaglia in un arcipelago di croste per questo c'è nel vangelo tanto tripudio di pane che dividendosi si moltiplica e passando di mano in mano sazia la fame dei poveri adagiati sull'erba e trabocca nella rimanenza di dodici sport per questo al centro della preghiera da rivolgere al padre gesù ha inserito la richiesta del pane quotidiano e ha lasciato a noi la formula per implorare dalla madre la grazia di una sua giusta distribuzione in modo che nessuno dei figli rimanga a digiuno santa maria donna del pane chissà quante volte all'interno della casa di nazareth hai sperimentato pure tu la povertà della mensa che avresti voluto meno indegna del figlio di dio e come tutte le madri della terra preoccupate di preservare dagli stenti l'adolescenza delle proprie creature ti sei adattata alle fatiche più pesanti perché a gesù non mancasse sulla tavola una scodella di legumi e nelle sacche della sua tunica un pugno di fichi pane di sudore il tuo di sudore e non di rendita come anche quello di giuseppe del resto il quale nella bottega di falegname era tutto contento quando dava gli ultimi ritocchi a una panca che avrebbe barattato con una bisaccia di grano e nei giorni del forno quando il profumo caldo di focaccia superava quello delle vernici ti sentiva cantare dall'altra parte mentre gesù osservandoti attorno alla madia dava anche lui gli ultimi ritocchi alle sue parabole future il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e impasta con tre misure di farina santa maria donna del pane tu che hai vissuto la sofferenza di quanti lottano per sopravvivere svelaci il senso dell'allucinante aritmetica della miseria con la quale i popoli del sud un giorno ci presenteranno il conto davanti al tribunale di dio abbi misericordia dei milioni di esseri umani decimati dalla fame rendici sensibili alla provocazione del loro grido non risparmiarci le inquietudini dinanzi alle scene di bambini che la morte coglie tragicamente attaccati ad ari di seni materni e ogni pezzo di pane che ci sopravanza mette in crisi la nostra fiducia sull'attuale ordinamento economico che sembra garantire solo le ragioni dei più forti tu la cui immagine quasi fosse un amuleto pietà di madre o tenerezza di sposa nasconde furtivamente nel bagaglio delle migrande o nella valigia di chi affida al mare la sua vita in cerca di fortuna tempera le lacrime dei poveri ai quali è divenuta troppo amara la terra natale alleggerisci la loro solitudine non esporli all'umiliazione del rifiuto colora di speranza le attese dei disoccupati e raffrena l'egoismo di chi si è già comodamente sistemato al banchetto della vita perché non sono i coperti che mancano sulla mensa sono i posti in più che non si vogliono aggiungere a tavola santa maria donna del pane da chi se non da te nei giorni dell'abbondanza con gratitudine e nelle lunghe sere delle ristrettezze con fiducia accanto al focolare che crepitava senza schiuma di pentole gesù può aver appreso quella frase del deuteronomio con cui il tentatore sarebbe stato scornato nel deserto non di solo pane vive l'uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di dio ripeticela quella frase perché la dimentichiamo facilmente facci capire che il pane non è tutto che i conti in banca non bastano a renderci contenti che la tavola piena di vivante non sazia se il cuore è vuoto di verità che se manca la pace dell'anima anche i cibi più raffinati sono privi di sapore perciò quando ci vedi brancolari insoddisfatti attorno alle nostre dispense stracolme di beni muoviti a compassione di noi placa il nostro bisogno di felicità e torna a depurre nella manciatoia come quella notte facesti a betlem il pane vivo disceso dal cielo perché solo chi mancia di quel pane non avrà più fame in eterno